La pagina sportiva iniziamo con il calciomercato del Pescara, calciomercato vi ricordo che si chiuderà il primo settembre proprio a poche ore, a pochi giorni dall'inizio del campionato, naturalmente le trattative in casa Biancazzurra continuano e allora per le ultimissime abbiamo in studio Massimo Profeta che saluto, buon pomeriggio Massimo, ci sono novità pregnanti Massimo? Non ci sono novità, fase di stalo per quanto riguarda San Nipoli è ormai un tormentone degli ultimi giorni, delle ultime due settimane per essere ancora più precisi, c'è distanza tra Latina e Pescara, tra domanda ed offerta, ricordiamo che San Nipoli del 2000 ha 23 anni, 34 presenze e 4 gol lo scorso campionato di Serie C con la maglia della Latina, tra l'altro preso da Di Giuseppe, attuale direttore sportivo del Pineto, quando militava nel Trastevere, circa 110 presenze in Serie D con la Trastevere, Sicuramente è la mezzala che vuole Zeman, una mezzala a tutto campo, un giocatore fisico bravo nell'inserimento e che ha anche qualche gol nel suo DNA, c'è una differenza, una distanza, ripetiamo, tra Latina e Pescara, il giocatore ha rifiutato di rinnovare il contratto che scadenza il 30 giugno 2024 con il club Pontino, è già d'accordo con Pescara, si parla di un triennale, però insomma c'è da superare questo scoglio, in Latina chiede 70 mila euro più la percentuale sulla rivendita futura intorno al 25%, diciamo che c'è l'accordo sulla percentuale legata alla rivendita futura del calciatore, 25%, ma non ci siamo sul prezzo di cessione perché il Pescara offre 30 mila euro più il 25% sulla rivendita futura. Insomma bisognerà fare anche uno sforzo a mio avviso perché è passato già troppo tempo, soprattutto se si considera importante questo giocatore, lo è sicuramente per Zeman, per il suo tipo di gioco, ad oggi non ci sono novità, probabilmente tutto rimandato la prossima settimana, ma dell'Icarri valuta anche altri profili, sarebbe stato l'ideale per esempio Tribuzzi del Crotone, ma il Crotone non lo ha messo sul mercato, un classe 98 ex Frosinone, classica mezzala box to box, come si dice in gergo, una mezzala di inserimento, una mezzala fisica, una mezzala anche capace di fare gol, però diciamo che l'obiettivo è focalizzato su San Nipoli, ripeto, si sta perdendo già troppo tempo, in questo momento è il mio personalissimo punto di vista, la rosa per come è stata allestita non è all'altezza di un campionato di vertice, questo lo possiamo dire senza tema di essere smentiti, naturalmente saremmo contenti se eventualmente il campo dirà tutt'altro. Ecco Massimo, volevo chiederti un'altra cosa, Colai, Vergani e anche Mora, che l'anno scorso hanno dato il loro contributo al Pescara, se dovessero partire, non dico tutti e tre, ma altri di questi tre, qualcuno di questi tre, praticamente la squadra sarebbe completamente rinnovata, troppo rinnovata al tuo giudizio? Sicuramente c'è stata una rivoluzione in sede di mercato, ma lo è tuttora, perché sono tanti giocatori molto giovani, i dirigenti dicono che ci sono i titolari che hanno una certa esperienza, alle spalle dei titolari ci sono questi gioni in cui parlare con i giornalisti. Ma quali sono i titolari? Ecco, infatti, è chiaro che Alloi e per esempio Tuniov ancora non li abbiamo visti, probabilmente giocheranno uno spezzone di partita, lo ricordiamo, domani ci sarà l'amichevole. L'ultimo test prima del debutto in campionato per sabato, ricordiamo sabato 2 settembre il Pescara ospiterà la Juve Under 23 ore 20.45 all'Adriatico Giovanni Cornacchia, domani Pescara Noteresco a Silvi Marina ore 17.30 in diretta su Rete 8, telecronaca di Enrico Giancarli, ne approfittiamo anche per pubblicizzare i nostri programmi. Ingresso gratuito, ricordiamo anche questo. Ingresso gratuito e subito dopo terzo tempo live. Questa appunto è la schermata delle prime giornate di campionato, il Pinetto sarà di scena a Gubbio il primo settembre, che giocherà di venerdì nelle prime tre partite il Pinetto. Il Pinetto, ecco, la differenza sostanziale in questo momento tra Pinetto e Pescara... Il mercato è quasi chiuso, ormai chiuso, virtualmente chiuso. Il Pinetto ha già centrato tutti gli obiettivi che si era prefissato in sede di mercato, il DS di Giuseppe, con largo anticipo. Forse, probabilmente, farà un altro attaccante, però Giambè sta bene, ha superato i suoi problemi di natura cardiaca e quindi, insomma, diciamo che il Pinetto ha la sua rosa ben definita. Non possiamo dire la stessa cosa del Pescara. È chiaro che restano ancora 12-13 giorni, la chiusura del mercato è fissata per il primo settembre, staremo a vedere, però al momento, ripeto, questo è il mio sommesso punto di vista, non è una rosa che può competere per la vittoria in questo momento del campionato.